Non so cosa succede Amico a me sta segnando che non ti sta facendo entrare Me lo confermi perché non vorrei che si Sì Ok ora faccio Perché non si è scacciato tutto ieri Adesso funzionerà tra 30 secondi Ma è normale che non funziona neanche a me Sì No non funziona nessuno mi sa Ok adesso funzionerà 30 secondi Se reviano tutta l'infrastruttura che ieri si è scacciato tutto Per favore eh Ok Noi attendiamo Io voglio la grigliata eh Se oggi non funziona Io vi giuro che prendo il microfono E lo sbatto per terra Il microfono no Costa 2000 euro sto microfono Lo sbatto per terra Non me ne frega lo prendo Non te la prendi col microfono prenditela con qualcos'altro Stray ha detto più di me Dov'è che ti hanno messo un prezzo scusa Tu non hai prezzo Stray Dovrebbe essere così Perché se non ti vorrebbe comprare sinceramente Uh Uh che come back Stamburi Bada bada bosh Preferivo il complimento Distrutto Ti sta sistemando Sì altri 10 secondi Che carica tutto L'hai detto 10 secondi fa questa cosa Eh ragazzi eh Qua serve un criceto che corre di brutto Quello di Alex serve Il mio non è corre di brutto No 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 Ma cos'è Cosa sta succedendo Sto sentendo Poverino No Ok puoi entrare dai Prova prima Prova eh Sì Uh felicità Sto penetrando Sto sgusciando dentro Penetriamo mi piace Per favore No basta Ma nei server Ragazzi Per favore Comunque non ho dato neanche un mozzico al mio panino Verdi Stato A biafì